La governolese si aggiudica il derby mantovano di promozione al vicini, infliggendo il primo KO nel 2023 alla Castellana, cara attesa e che ha visto gli ospiti terminare addirittura in sette uomini, dopo le espulsioni a Fai e Pape, Bonaccorsi, San Giorgio e Bonaglia. I goffredesi recriminano per i rossi a loro dire eccessivi e per un rigore, prima segnato e poi tolto dal direttore di gara, che è sembrato aver perso nelle fasi finali il controllo della partita. Al primo vero assalto i Pirati passano in vantaggio, al decimo Bertuol ruba palla a Parisio e Duetta con Omorege, quest'ultimo sterza e in sacca, rendendo vano l'intervento di Lancini. La Castellana risponde al venticinquesimo con un missile su punizione di Parisio, sventato in corner da Bertolani. Al trentottesimo Castellana in dieci, Fai e Pape, beccato dal pubblico, fa un gestaccio che viene visto dall'arbitro, rosso diretto. Nella ripresa gli ospiti ci provano, prima con un'incursione di David Taiba, che porta al tiro a Orlandini, poi con una punizione di Patrick Taiba, che impegna severamente Bertolani al cinquantunesimo. Al sessantacinquesimo un tiro di Gianfi termina fuori misura, cinque minuti dopo a fallire da buona posizione è Lopez. Nel finale, un rigore prima concesso e poi tolto alla Castellana per una precedente palline-out, fa scattare i nervi a fior di pelle, con le espulsioni di Bonaccorsi-San Giorgio e Bonaglia. La Gove nel recupero sbaglia un'altra chance, ma ai fini del risultato poco cambia. Tre punti ai Pirati, che con questa vittoria si rilanciano anche per la salvezza diretta. La Castellana resta a meno tre dal secondo posto, ma gli strascichi maggiori potrebbero arrivare dalle decisioni del giudice sportivo.